Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Continua l'avventura di Sims 4, Portento del Punto, vediamo oggi un nuovo episodio di gameplay. Prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per non sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione. E ragazzi, torniamo in partita e torniamo nella nostra famiglia di Portento del Punto. E ragazzi, sentite la canzone. Partiamo alla grande. Ragazzi, direi che vi devo far vedere un bel po' di robette. Ormai la nostra Poliester ha massimizzato l'abilità di lavoro a maglia. Ma per quanto riguarda la nostra aspirazione di vita, Signore degli Arpelli, effettivamente ragazzi non mi sono reso conto che aveva fatto 10 robette. Quindi non ve l'ho potuto far vedere nel video. Ma siamo arrivati allo step successivo. Dobbiamo infatti donare 5 articoli lavorati a maglia in beneficenza, lo facciamo subito. E completare 5 articoli leggendari. Ormai dovremmo riuscire a farli abbastanza velocemente. Per quanto riguarda invece la nostra Filomena, dobbiamo andare in un museo. Ma lo faremo. Per quanto riguarda invece Agostino, c'è un bug ragazzi. Io ho scritto tanti libri, ma li ho pubblicati dalla cassetta eppure non me li ha contati. Quindi ora dobbiamo capire se riusciamo. La bambina sta relativamente bene. Il bambino invece si è portato avanti con le abilità. Ragazzi ho giocato un pochino. Quindi ho massimizzato l'abilità di comunicazione e anche quella di movimento. Il gatto sta bene. Quindi ragazzi cominciamo a fare le robe della Signora degli Orpelli. Ovvero diamo questo in beneficenza. Assolutamente diamo questo in beneficenza. E sono due. Sono tre. Togliamo da Plopsy. Grazie. Così almeno posso darle in beneficenza. E dovremmo avere cinque articoli. Queste in realtà le dovrei mettere nel guardaroba. E le metto nel guardaroba. Direi che vado a fare un altro lavoretto a maglia. Forse è meglio. E vado a fare oggetti lavorati a maglia. Puff. Ok, le metto uno. Così almeno vediamo un po'. E capiamo ragazzi. Uno di cinque. Due di cinque. Ok. Due di cinque. Fermi ragazzi. Che ogni tanto le interazioni non vanno. Infatti questo lo devo dare poi giustamente. E livello quattro di pensiero per il bambino. E ovviamente è terminato il periodo dell'annuncio su Plopsy. Ah, è terminato l'annuncio ragazzi. Con lei ho fatto un sacco di dipinti. E li sto vendendo. Infatti abbiamo un po' di Simoleon. Dove dire che mi piace questa roba. Intanto la nonna va a fare le robe. Perfetto. Lui mi dovrebbe continuare a scrivere. Sto cercando di capire se il bug si risolve. Ma ragazzi. Stando davvero tutto alla grandissima. Intanto la bambina deve fare i compiti. Quindi sono molto molto soddisfatto. Oggi andiamo a terminare. Se riusciamo le pietre miliari. Altra cosa ragazzi. Ho chiesto alla mia nonnina. Di insegnare alla nuora. A fare la maglia. E ora vi faccio vedere. Perché sono rimasto stupito da una robetta. Ovvero. Dalla velocità con cui i Sima prendono l'abilità di lavoro a maglia. Se gliela insegna un Simanziano. Ragazzi. La nostra pilomena è a livello 4. Ma tipo in 3 secondi. Pubblica per conto tuo o vendi a un editore. Vediamo un po'. Provo a vendere a un editore. Magari così mi conta. Vediamo un attimo. Sì ragazzi. Ok. Ok. Dobbiamo quindi scrivere altri nuovi libri. Perfetto. Fantascienza. Intanto la nonna ha fatto tutto. E allora. Grazie nonna. Ti chiedo per cortesia. Di dare sia il puff in beneficenza. Sia la cassetta delle lettere. Sia il nostro portavaso. Così almeno abbiamo 5 oggetti. Ok. Perfetto. Fuori 1. Vedete che va là e si bugga. L'interazione ogni tanto succede. Non so perché questa cassetta è un pilino buggata. Rispetto a quella classica. Credo sia proprio la cassetta. Non la conta come cassetta normale. Credo ragazzi. Non lo so. Intanto però abbiamo fatto tutto questo. E dobbiamo completare 5 robette leggendarie. Assolutamente lo facciamo. Direi che. Cosa facciamo di bello? Allora. I berretti ragazzi. Vi ho tutti messi nel guardaroba. Ve l'ho detto. Mi sono portato avanti. Stavo cominciando a. Fare le calze. Vedete che sto iniziando a farle. Ma sì dai. Vediamo un po' se riusciamo a fare le calze straordinarie. Intanto abbiamo uno stato morale. Contributo a maglia per il miglioramento della società. GG. Nuova. Nuovo stato umorale. La cosa mi piace. Lui abbiamo capito che deve solamente scrivere libri e pubblicarli a un editore. Mentre lei sta bene. Sta mangiando. E allora aspettiamo un attimo che la nostra filomena mangi. Poi la mandiamo al museo. Così almeno arriviamo a 3 di 4. E direi che ci portiamo avanti. E poi però vi faccio vedere anche la nonna che insegna la nuora. giustamente a lavorare a maglia. Perché ripeto è interessante, veloce ed è carina come cosa. Anche perché voglio che lei impari a fare la maglia per delle robette che non so se vedremo in questo o nel prossimo episodio. Comunque lei ora deve andare in bagno. Brava. E poi alle 3.33 e 23 in realtà di notte. Beh direi che è arrivato il momento di andare al museo. Mi sembra un orario consono. Quindi andiamo a Willow Creek. Andiamo al museo. E siamo arrivati ragazzi. Oh intanto lei è tesa. Ma non importa. Osserviamo. Osserviamo. E osserviamo. Un nevica nevica. Le è tesa ma adesso per favore grazie mi devi superare la pietra miliare. Eh lo so che c'è freddo. Infatti vieni dentro che fa freddo. Brava. Brava la mia filomena. Ok vediamo un attimo la pietra miliare se riusciamo. Serva o ammira? Sì. 1 di 3. Perfetto. Io andrei anche al resto. 2 di 3. Perfetto. E 3 di 3. E ragazzi vediamo un po' cosa ci chiede per l'ultimo step. O meglio penultimo ragazzi. Consegui il livello 10 di pittura. Siamo a livello 8. E completa 5 capolavori. Ne abbiamo già fatto ragazzi. Ormai lei fa tanti capolavori. Quindi ragazzi è fattibilissima. Come roba. Anzi sono molto molto contento. Abbiamo anche il negozio di premi. Ragazzi non so ancora bene cosa comprare con i punti delle aspirazioni di vita. Quindi ci sto pensando anche in funzione dei prossimi episodi. Quindi capiremo. Capiremo. In tutto ciò direi che la possiamo rimandare a casa. Perché fa freddo. Nevica. E direi che ci possiamo concentrare. sulle pietre miliari e soprattutto sull'insegnare lei a lavorare a maglia. Perché ci servirà. Ragazzi ho deciso di cittare. Quindi per cittare sapete bene che chi possiede The Sims 3 originale e lo registra a sua origine. Ha accesso per ogni espansione a dei flambobini, delle lampade che hanno un effetto collaterale. Ovvero si può giustamente attivare l'aura emotiva e diventa arredamento ispirante. Questo è il primo di Ambition. Di The Sims 3 Ambition. So che in teoria non si fa ragazzi. Ma per una volta concedetemelo. Metto qua la robetta così mi diventa ispirata la bambina. Vado anche a fare un bel attiva l'aura emotiva. Questo lo mettiamo nell'inventario. E in teoria da ispirata ragazzi la bambina dovrebbe fare la pietra miliare. Quindi disegna forme. Lei è a disagio. Ok ambiente sporco. Oddio non so dove sta lo sporco ragazzi in tutto ciò. Spero che questo non mi precluda la possibilità di essere ispirata. E vi prego no. No non fare la maglia bimba. Riprendi forme. Intanto abbiamo dato tutte le cose. Al massimo ragazzi vado a mettere il plambobino dentro casa. Brava bimba sì che mi ha ispirata. Ok ho citato. Scusate ragazzi. Ogni tanto lo faccio. No non è vero. In realtà non li uso mai. E questa cosa mi dispiace. Perché ripeto è legit. Quindi vabbè. Ok. Mentre la mamma. Stanno andando a dormire. E hanno un po' di bisogni signori eh. Potresti venire in queste zone. E ti siedi. E così tua nuora. E ti siedi. Grazie. Grazie. Così almeno vi faccio vedere quanto velocemente aumenta l'abilità quando si insegna a lavorare a maglia. È una delle interazioni. Vi ho detto che voglio vedere il patting tutto e per tutto. Quindi ragazzi voglio vedere anche tutte le cose che si possono fare. Intanto lei dovrebbe sedersi. Grazie. E anche la nonna. Perfetto. E altre scelte amichevole. Ovviamente ragazzi avevo una cesta a giro. Quindi l'ho messa nell'inventario di Filomena. E può lavorare a maglia in questo caso. Eccoci qua. Lei dovrebbe andare in bagno ma chissene. Voglio farvi vedere quanto velocemente aumenta l'abilità quando un sim glielo insegna. Guardate un po' eh. Vedete? È assurdo. Intanto la nostra animazione mi piace. C'è la nonna che è molto attenta al fatto che lei sta facendo la maglia. Guardate quanto velocemente sta crescendo ragazzi. È allucinante. Guardate se io vado un attimo a fare velocità 3. Guardate. Siamo già a livello 5. Praticamente. Ragazzi è assurdo. Questa cosa è bella. Ha senso. Mi piace molto anche l'animazione. Mentre mi piacerebbe anche se lui facesse altri libri. Perché sai com'è. Riprendi a scrivere. Grazie. Ok. Doveresti anche farmi la pietra miliare. Perfetto. Vediamo un po' lei che è a quasi a livello 5. Sì ragazzi. Cioè se io sto qua 5 minuti e loro non hanno bisogno di sorta. Guardate quanto velocemente diventano bravi. Mentre lei ora mi può fare lavoro a maglia abbigliamento. Maglioni. Perfetto. Grazie nonna. È stato bello. Ti faccio mangiare Filomena. E poi mi fai un bel maglioncino per tuo maritino. E intanto la nonna va in bagno. E faccio qualcosa per mio marito da uomo. Lo faccio giallo. Vai color senape. Brava Filomena. Non vedo l'ora che tu regali il tutto a tuo marito. Mentre con la nonna lavoro sempre a maglia. Vado a fare abbigliamento e continuo con le calze. Perché spero appunto di farle leggendarie. Lo so ragazzi. Segretamente cerco di farlo. Mentre qua non abbiamo nulla. Perfetto. Intanto suocera e nuora che lavorano. Qua intanto c'è una chiamata. Vorresti riattacca. Sì. Dona un simoleon. Grazie. Sì sono molto felice. Cioè donando un simoleon. Beh. Eh ok. Lo accetto. Lo accetto. Intanto la bambina però mi studia sodo. Il papà. Che vuole divertirsi. Spero lo stia facendo. Facendo dei libri. Perché mi servirebbe. Ok. Guardate un po' ragazzi. Loro due che lavorano. Aumento un po' la velocità del tempo. Per capire. Ok. Dovremmo aver fatto tutto. Intanto la nonna sta mangiando. Qualcosa di schifoso. Ma non importa. Aggiungiamo al guardaroba questo. La nonna deve andare a dormire. E lui ha fatto un altro libro. Che darà all'editore. Così almeno me lo conta. Quindi vende a un editore. Ok. Uno alla volta ragazzi. Ne mancano otto. Ma pian piano ce la facciamo. Perfetto. E quindi in teoria siamo a due. Sì ragazzi. Due due. Intanto anche lui ha fame. Ha sonno. Insomma. Arrangiatevi anche un po'. Anche perché sta per arrivarti un bel maglioncino. Oh. L'abbiamo fatto. Bella lì. Regala. A lui. Oh. Eccolo qua. Grande. Ok. Quindi gli abbiamo regalato. E ora questo io dovrei aggiungerlo al guardaroba. Credo. Tanto mi regala due ragazzi. Perfetto. Due maglioni smegli che one. Grazie. Non ditemi che c'è il bug di duplicazione. No. Per fortuna no. Intanto a questo lo aggiungo al guardaroba. Quindi. Sapete che non so. Aggiungiamolo al guardaroba. Ok. E poi. Per favore. Vai qui. Dove sta lo specchio. Grazie. E fai modifiché al sim. Pare felice del maglione. Sei felice del maglione? Dimmi di sì. Precita rapida. Maglie fantastiche. Per aver ricevuto un lavoro a maglia regalato. Vabbè. Ragazzi è andata bene. Forse è andata bene ragazzi. Forse no. Forse ci vuole del tempo. Non lo sappiamo. Sta di fatto che lei come sta. E lei sta usando il bagno. Vai non importa. Per quanto riguarda il lavoro a maglia. Io continuerò poi a fare dei maglioni. Ma credo. Non ci siano problemi di sorta. La nonna invece. Che sta dormendo. Ma fa i pisolini. Perché su dei sims. La gente non sa fare. Dormi. Ragazzi. Vanno sempre a fare dei pisolini. Non chiedermi il motivo. Tanto il gatto dovrebbe avere fame. Agostino mi sta bene. Chiama gatta per mangiare. Quindi il maglione non ha avuto effetti collaterali. A quanto pare. Ma non capisco. Forse è andato tutto per il verso. Dove cercare di capire come scatenare un effetto colla... Grande. Continua a cucinare. Un effetto collaterale del maglioncino. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Tanto lui ha disagio. Ma chi non lo è in questa casa. Perfetto. E mangia però. Cioè hai fatto le uova per un motivo. Grazie del giocattolo che hai donato. Molto bene. Brava. La nonna. Perfetto. Lavora a maglia. Lavora a maglia. Proviamo a fare oggetti. Facciamo così. Decorazioni. Proviamo a fare qualcosa del genere ragazzi. Perché ho paura che con gli abiti farli leggendari sia più difficile. Non lo so eh. La butto lì. Magari non è vero. Però voglio capire. Quindi se lei riesce a farmi le cose... Le cose leggendarie. Forse è meglio ragazzi. Sapete? Perché comunque mancano solo 5 oggetti. E a questo punto ragazzi. Prossimo episodio. Vediamo l'abilità massimizzata. Vediamo anche la sua pietra miliare. A livello 3 di 4. Cercherò. Uh accidenti. Bella lì. Qualcuno vuole comprare. Fermi tutti. Eccolo qua. Due ragazzi. Me li sono persi. 2300. Beh signori. Cominciamo a guadagnare. Grazie. Svegliati che ci sono affari da fare. E dicevo. Anche con lei ragazzi. Cercherò di fare 5 capolavori. E giustamente massimizzare il tutto. Siamo riusciti a dare entrambe le robe. Ho paura di no. Perché si bugga la cassetta. Ti prego. Vai qui. Ti prego. Ti prego. Grazie. Eccolo qua. Uno. Nonne. Vai qui. Ti prego. Questo è un capolavoro che vale una sfracca. Perfetto. Lei intanto dovrebbe mangiare. Per quanto riguarda invece lui. Dovremmo ancora. Sì. Fare dei libri. Fatemi vedere quanto è importante questo. Scadente. Eh no ragazzi. Allora con la nonna. Dobbiamo capire come schillarci. E fare le cose leggendarie. Quindi nel prossimo episodio vedrete probabilmente quattro lavori più o meno. Insegno l'altro simo a lavorare a maglia. Non me l'ha segnato. L'ho fatto. Forse lo devo fare per un tempo determinato. Non lo so. Vediamo un po'. Determinato dal gioco. 2500 ragazzi. Guardate quanto stiamo diventando ricchi. Signori. Signori. Plopsy comincia a darci delle belle. Belle soddisfazioni. Bella lì. Siamo a 11.900 simole. Ragazzi. Anche lui balla. Sta andando tutto bene. Ragazzi. Continuerò a skillare le loro abilità. Continuerò a raggiungere le pietre miliari. E credo proprio che nel prossimo episodio vedremo delle cose particolari. Soprattutto voglio vedere la sua di aspirazione di vita al completo. Perché mi ispira particolarmente. Perché potrebbe anche fare il maglione proibito. Le cose di Yarny. Insomma. Ci sarà da vedere. E ragazzi siamo arrivati al momento della build di oggi. Desert Mini Home. Questa era stata ubicata a Sulani. Io la sto facendo vedere a Newcrest. Ed è stata fatta da... Ora non ricordo. Eccolo qua. A Kikitsune. 86. Avevo preso il nick. Beh ragazzi. Andiamo subito a vederla. Ed eccola qua. Probabilmente ragazzi. Rende di più a Sulani. Non saprei. Ma... Ovviamente. Tolgo la griglia e la vediamo dall'esterno. Ok. Immersa fra le palme. È una micro casa. E ragazzi guardate un po'. Oh intanto qua non so. Credo si sia Bagatello. Probabilmente un pilastrino. Però guardate un attimo. L'esterno è molto molto carino. Qua dietro. Ok. Ci sono le palme. Uh. Guardate un po'. Tutti i fiori. L'edera. Le pareti. Bella. Legnosa. Mi piace. Anche l'erbetta che scende. Vabbè. Sapete cosa penso. Ma ragazzi la vediamo subito. Perché abbiamo un piccolo portico. Dove la porta si è buggata. Succede ragazzi. Ma abbiamo una bella poltroncina. Abbiamo un tavolino. Dove si può leggere. Quindi stare all'aperto. Il barbecue. Qua invece. Raggiungiamo questa piccola zona. Composta da zona zen. Ragazzi guardate un po' che carina questa zona. La piscinetta. Molto mini. Ma molto bella. E qua ragazzi sono molto molto curioso di capire. Perché entrando dalla porta. Ok capisco perché si è buggata a colpa del quadro. Abbiamo la mini cucina. Guardatela un po'. Molto carina. Tutta buildata. Con dei fiori qua. Credo ci fosse una piccola mensola. Ma c'è tutto quello che serve. Credo qua ci fosse anche il lavandino. Non saprei. Ovviamente la zona con le pentole appese è divisa da questa sorta di struttura. Che è fatta da queste finestre. Ci stanno un sacco. E qua c'è. Uh il mobile giustamente di tiny living che si apre diventa un letto. Le cose per la scuola. Il bel pouf che in realtà è un tavolino. La libreria. La zona pc tv musica. C'è tutto ragazzi. In questa mini casa addirittura la piccola zona pranzo. Ragazzi minuscola ma buildata benissimo. Davvero è qua. Credo si sia buggata la porta che ci conduceva. Esatto al bagnetto. Ovvero doccia, cappatoio, il pc era qua. Ragazzi c'è tutto. Ragazzi è minuscola eppure c'è davvero tutto. Tutto in una micro casa. Questa è una micro casa ragazzi. Assolutamente. Vediamo un po'. Residenziale. Forse la tenuta residenziale. Ma in realtà ragazzi credo sia una micro casa. Vediamo subito. 32. Esatto ragazzi. In una micro casa c'è tutto. Dalla piscina alla zona pranzo, cucina, notte, studio. Insomma non manca davvero nulla. Mi piace molto perché anche i colori stanno benissimo. Poi pensate anche a Surani con la sabbia. Sicuramente rende molto di più. Ma ragazzi, GG perché non è facile buildare in spazi così piccoli. Hai buildato benissimo. Io non posso fare altro se non ringraziarti per averla condivisa con noi. Davvero molto molto carina. E ragazzi, direi che la build di oggi mi è piaciuta davvero un sacco. E ragazzi, stiamo davvero andando avanti. Mancano alcune attività, alcune interazioni. Soprattutto voglio vedere cosa succede con la pietra miliare completata legata a The Sims 4 Potento del Punto. Ma ragazzi, direi che ci stiamo comportando bene. Quindi nei prossimi episodi vedremo un po' di concludere tutto quello che questo staff pack offre. Ma per questo video vi dico che è tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto. E vi ricordo anche che qua, schermo, trovate i due canali dove potete iscrivervi anche ai video precedenti. Io come sempre vi do l'appuntamento. Alla prossima vi dico ciao a tutti. Ciao a tutti.